Hai numerosi template disponibili online, crea il fascicolo dell'opera, carichi i documenti necessari, hai una visione organizzata dei documenti, visualizzi ovunque i tuoi file, imposti alert per la scadenza dei documenti, condividi il tuo dossier, ASBIM dossier è la soluzione giusta per definire il fascicolo dell'opera in modo rapido e corretto ed evitare pesanti sanzioni. Grazie Grazie Grazie